e come promesso fine partita due parole col grande assente di questa partita Rombo Rambaldi oggi assente come hai questa assenza? Buonasera a tutti assenza per infortunio ma preferisco star fuori tutte le partite se dobbiamo vincere così mi metto a fare il mental coach fuori e sono contento bella partita sofferta perché comunque l'Iknos da sempre è una squadra che gioca un bel calcio a 5, mette molta intensità tutti i giocatori esperti che calciano da ogni posizione si è visto perché al primo tempo comunque il nostro portiere è stato tirato in causa molte volte però sono molto 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 contento per i miei compagni perché hanno tirato fuori veramente le palle oggi sono stati uniti poi il primo tempo è salito in cattedra l'Invere Condo Versace che non ci aspettavamo questa tripletta ma dovrà portare pizzette offrirci da bere portarsi a cena perché è stato veramente incredibile al secondo tempo l'Iknos ci ha schiacciato abbiamo difeso non benissimo quindi abbiamo subito due gol meritati per l'Iknos perché meritava meritava di segnare con le tante occasioni e poi insomma la nostra grande voglia di vincere è uscita fuori siamo riusciti a vincere quindi sono contento molto contento a nostro parere è un risultato troppo penalizzante per i ragazzi di Mister De Sosa ma soprattutto un risultato figlio dell'esperienza dei giocatori messi in campo il Sessu ha schierato giocatori di grande esperienza che nel momento in cui avevano necessità di rifiattare hanno fatto girare la palla e poi sono stati nettamente più cattivi davanti sono d'accordissimo con te nel senso che sicuramente è un risultato largo che non dà il giusto merito all'Iknos perché comunque l'Iknos ripeto ha fatto una buona partita e sono d'accordo con te sul fatto che i nostri giocatori di esperienza che hanno giocato veramente tanto infatti erano stremmati a fine partita sono riusciti a gestire la pressione e quindi non posso che fare un complimenti ai miei compagni e in bocca al lupo anche all'Iknos perché merita di fare un buon un buon campionato e sulle parole e l'augurio di Rambo Rambaldi noi diamo appuntamento ai nostri telespettatori a sabato prossimo per la gara che vedrà contrapposto in casa l'Iknos contro il Villa Speciosa altra partita al Cardiopalma come quella di quest'oggi e sul saluto di Rambo diamo appuntamento a sabato prossimo ciao a tutti